Seconda diagonale per Arthur Dallaloyan, un avvitamento, due e mezzo Un po' scappato, ma molto bene Rondata flick, due avvitamenti e mezzo, salto teso, salto teso con mezzo giro Dalla spaccata sale alla croce verticale, ginnasta davvero impeccabile nell'esecuzione Rare volte lo si vede fare elementi scorretti dal punto di vista tecnico Doppio avvitamento Solo un doppio avvitamento, ho visto male Eh beh